Sia lode e gloria a te Signore mio Dio carissimi fratelli vi volevo ricordare il solito appuntamento di questa sera venerdì alle ore 21 e 30 per la crociata di preghiera che avrà titolo questa sera con il potere della Pentecoste il potere dello Spirito Santo venite accorrete numerosi in modo da poter pregare tutti insieme e in modo da pregare per i nostri fratelli per noi stessi per i nostri figli e per tutte le persone che hanno bisogno di preghiere e anche per la nostra nazione così tanto travagliata vi aspetto numerosi questa sera alle ore 21 e 30 ricordo che alle ore 21 vi sarà prima il rosario vi volevo anche chiedere chi di voi se qualcuno di voi conosce viridis o ha sue notizie perché non ho più avuto sue notizie e sue email e comincio a essere un po' preoccupato di questa sua assenza non vorrei che stesse male se qualcuno di voi lo conosce personalmente per cortesia fatemi avere notizie ci vediamo questa sera alle ore 21 e 30 lode gloria a te signore mio dio amen